Le comunità energetica rinnovabili sono credenti di essere uno dei principali strumenti che possono supportare la nostra transizione verso un decarbonizzato e digitalizzato l'elettricità. Magliano Alpi è un piccolo paese di origini rurali dove siamo partiti con il progetto della comunità energetica rinnovabile nel 2020. L'Energy Center del Politecnico di Torino hanno pubblicato un manifesto che spiegava alla gente comune come possiamo essere noi che cosa vuol dire fare una comunità energetica in parole semplici. Facare una comunità energetica rinnovabile significa produire energia e essere capace di usare l'utilizzo a livello locale. Ma questo è solo un facetto della giuola. Oggi in Italia installare 1 MW di un sistema fotovoltaico significa 1.2-1.3 milioni di euro. Questa quantità di euro, se investita localmente, è un buon catalystico di sviluppo e job a livello locale. Soprattutto verso la fine del 2021 il costo dell'energia è cresciuto tantissimo. Questo si ha fatto preoccupare non solo i cittadini ma anche gli enti pubblici come noi. Pertanto abbiamo deciso di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto di questo palazzo e creare la prima comunità energetica d'Italia nelle circostanze limitrofe del palazzo comunale. Quindi i soci produttori e consumatori della comunità energetica sono tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione. Magliano Alpi is getting a lot of data, experience and know-how on small but active and working energy communities. At the same time simulation computational capacity is needed. That's why the city of Magliano Alpi applied to work with the JRC in order to understand the effect on the medium to long time of making renewable energy communities wider. Somehow by introducing renewables we increase the levels of uncertainty and variability in the power system. These are issues that need to be tackled with new control solutions that in principle might be expensive if implemented at a high centralized level. With renewable energy communities we kind of decentralize the problem. Make sure that the demand profile is met as close as possible by generation at a local level so that the uncertainty and variability are kind of reduced at low voltage levels before they become a problem at higher hierarchical levels. So it's very important to create the first example where you can demonstrate the advantages and at the same time you have a living testimonial. We have the major, you have the small and medium entrepreneur, you have the citizens that say ok I am satisfied, I have understood it is important. So that their neighbors say me too I want to be part of the community. The first results we are seeing are very promising. We believe this is a very powerful instrument that can support the energy transition and somehow involve the citizens on many levels. The specific direction in which we go, well we'll have to wait and see. We start to analyze the preliminary results and on the basis of that we can make more detailed plans for the future.